ciao bentornate bentornati questo è un canale di matematica e fisica e troverete una playlist di calcolo delle probabilità dove ci sono problemi svolti la playlist diventerà sempre più ricca perché probabilità è uno dei miei argomenti preferiti è molto affascinante ed è anche una delle branche della matematica più utili se si conoscesse meglio calcolo delle probabilità si potrebbero evitare molte fregature e all'interno di questa playlist oltre a problemi tradizionali troverete anche problemi un pochino paradossali nel senso che la soluzione corretta va contro l'opinione comune tant'è che ho ricevuto parecchi commenti in cui sostenevano che lo svolgimento fosse sbagliato naturalmente la soluzione che vi propongo è sempre quella corretta anche perché sono problemi di nota fama conosciuta dalla comunità matematica internazionale e quella è la risposta ritenuta corretta tra questi troverete il famoso problema di montiol che ho fatto in collaborazione con fausta del canale didattico preparazione 2.0 e il problema delle tre carte in questo video invece vediamo il problema dei figli e delle figlie la domanda è questa sapendo che io ho due figli o figlie e inoltre sappiamo che almeno uno è maschio qual è la probabilità che anche l'altro sia maschio vi offro tre possibili risposte un terzo un mezzo cioè il 50 per cento o due terzi però prima di rispondere facciamo alcune ipotesi semplificative e noto che la probabilità che nasca un maschio è leggermente più alta della probabilità di una femmina ecco noi trascuriamo questo fatto immaginiamo che i due sessi cioè maschio femmina siano esattamente qui probabili quindi se c'è un bambino una bambina che deve nascere se non sappiamo ancora qual è il sesso sarà 50 per cento maschio 50 per cento femmina inoltre ci sono coppie che sono un pochino più predisposta ad avere maschi e coppie che sono un pochino più predisposta ad avere femmine e questo fa sì che la probabilità di avere due figli dello stesso sesso è leggermente più grande della probabilità di avere figli di sesso diverso ecco trascuriamo anche questo secondo aspetto immaginiamo che i sessi dei due figli siano stocasticamente indipendenti cioè che se io ho avuto ad esempio un maschio la probabilità che il secondo sia maschio o femmina è esattamente del 50 per cento quindi chiariti questi aspetti ripropongo la domanda sapendo che almeno uno è maschio qual è la probabilità che sia maschio anche l'altro un terzo un mezzo o due terzi se vuoi pensarci metti in pausa tra un attimo vediamo la soluzione allora in questo problema nascono due bambini nei problemi di calcolo delle probabilità quando capitano più eventi ad esempio lancio tre dadi estraggo cinque palline ecco può essere una buona cosa fare un diagramma ad albero cioè creare uno schema di questo tipo immaginiamo di non avere nessuna informazione quindi dimentichiamoci per un momento del fatto che almeno uno è maschio e supponiamo di avere due figli allora il primo figlio può essere maschio o femmina abbiamo detto che le probabilità sono 50 per cento e 50 per cento ora veniamo al secondo figlio nel caso in cui il primo sia maschio il secondo può essere sia maschio sia femmina sempre con la stessa probabilità e se la prima è femmina allo stesso modo poi possiamo avere un maschio una femmina alla fine abbiamo quattro configurazioni possibili il primo maschio e il secondo maschio oppure maschio femmina femmina maschio femmina femmina tutti questi casi sono equiprobabili e quindi hanno probabilità del 25 per cento oppure che la stessa cosa di un quarto infatti la somma deve fare 100 per cento cioè uno questo ciò che capita nel caso in cui noi non avessimo nessuna informazione ora aggiungiamo l'informazione che c'è stata data sappiamo che almeno uno è maschio questo implica che dobbiamo escludere l'ultimo caso cioè non possono essere due femmine avendo escluso un caso automaticamente aumenta la probabilità degli altri casi e quindi le probabilità saranno un terzo un terzo un terzo perché la somma deve sempre fare uno cioè cento per cento ora la domanda era sapendo che almeno uno è maschio qual è la probabilità che sia maschio anche l'altro ovviamente solo la prima situazione corrisponde a quanto richiesto sapendo che uno è maschio qual è la probabilità che sia maschio anche l'altro invece negli altri due casi l'altra una femmina in conclusione la probabilità che si calcola come casi favorevoli cioè uno fratto casi possibili 3 e un terzo quindi la risposta corretta che un terzo è assolutamente controintuitiva infatti verrebbe da pensare che la risposta sia un mezzo se uno è maschio l'altro avrà sempre 50 per cento 50 per cento effettivamente se la domanda fosse stata posta in modo leggermente diverso la risposta corretta sarebbe stato un mezzo nel nostro problema si dice che almeno uno è maschio ma non si specifica quale se invece fosse stato che ad esempio il primo genito è maschio allora avremmo escluso due casi cioè i due casi associati al primo genito femmina e quindi la risposta corretta sarebbe stata un mezzo o anche se il problema fosse stato ne ho conosciuto uno ed era maschio ma uno specifico allora avremmo potuto fare un diagramma d'albero dove mettevamo prima quello conosciuto e poi l'altro allora di nuovo un mezzo invece qua dice almeno uno ma non si sa quale e questa informazione porta la probabilità a un terzo se non sei ancora convinto provo a spiegarlo in un secondo modo la il testo del nostro problema quello che dà un terzo come probabilità potrebbe anche essere riformulato in modo equivalente dicendo sapendo che non sono due femmine capite dire che non sono due femmine è equivalente a dire che almeno uno è maschio qual è la probabilità che entrambi i bambini siano maschi che come chiedere che anche l'altro sia maschio dato che già uno che è maschio lo sappiamo allora con questa seconda formulazione che è esattamente analoga alla prima allora in questo caso molti avrebbero risposto un terzo perché avremmo ragionato sui quattro casi avremmo escluso quello con le due femmine quindi rimanevano tre casi possibili ma essendo le due formulazioni equivalenti allora la probabilità è un terzo per entrambe spero di avervi convinti se volete potete proporre questo problema agli amici a cena ma rischierete di litigare tutta la serata quindi non so se è il caso di farlo comunque se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale ciao e grazie ciao